Letizia Moratti è la vicepresidente di Fontana e devo dire lo spettacolo, questa telenovela che sta andando avanti ormai da un po' di settimane è molto triste. Io come ho sempre detto ribadisco che Letizia Moratti al di là dei giudizi che possiamo avere personali o meno finché è vicepresidente di Attilio Fontana è evidente che sta in un campo di gioco diverso rispetto al nostro e sicuramente noi non stiamo ad aspettare l'esito di questa telenovela che è tutta in casa del centrodestra. Azione vuole lavorare su una proposta, siamo già al lavoro, vogliamo farlo in tempi rapidi, la rivolgeremo a chi ci sta e dopodiché vogliamo partire il più possibile entro sicuramente la fine dell'anno. Tempo da perdere non ce n'è, vogliamo parlare a tutti i lombardi sicuramente senza correre il rischio di farlo solo nelle città ma vogliamo arrivare ovunque.